Hanno un'aggressione molto forte sulla biodiversità, sugli insenti, ma sulla salute delle persone. È ora di cambiare e voltare pagina. Noi come Alleanza Verde Sinistra ci candidiamo per aprire una nuova fase di un'agricoltura diversa che metta al centro gli agricoltori e la salute dei cittadini. Diciamo stop ai veleni nei piatti e nei cibi degli italiani. Questo governo ha autorizzato sostanze molto dannose e vietate dall'Unione Europea. Oggi presentiamo una legge che dice stop ai pesticidi. Lo diciamo all'Olo Brigida, alla Meloni, prima la salute degli italiani. Quella salute che il governo in agricoltura e sui cibi degli italiani ha dimenticato. Vogliamo giustizia alimentare. Hanno distratto gli italiani con la farina dei grilli, li hanno imbrogliati, ma mentre li imbrogliavano hanno continuato a mettere veleni nei nostri cibi e la gente ha continuato ad ammalarsi. Le persone si ammalano perché si mettono veleni nei cibi, altro che farina dei grilli. La nostra proposta di legge interviene per ristabilire norme certe che garantiscano a tutti e a tutti di mangiare cibo sano. Il governo sta autorizzando.